Nonostante un mese fa il rientro in fabbrica dei primi 10 dipendenti con la Blutec, centinaia di operai ex Fiat sono senza cassa integrazione da due mesi, protesta davanti alla prefettura di Palermo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi pomeriggio a Lampedusa, una visita che cade in un momento particolare per l'isola, di nuovo in prima linea nell'accoglienza e dopo settimane con migliaia di arrivi. Mondello si prepara a entrare nel pieno della stagione balneare, palermitani e turisti alle prese con zone blu e parcheggi, intanto in piazza continuano i lavori di riqualificazione. Il comico palermitano Roberto Lipari vince il talent eccezionale veramente, ha portato la Sicilia sul palco, pubblico e giuria lo hanno premiato. Il Trapani prepara la finale di andata dei playoff di Serie B in casa del Pescara, iniziata nel frattempo la prevendita per la gara di ritorno al provinciale. Si va verso il tutto esaurito, partito e il giro di Sicilia, evento tra motori, cultura e turismo. Buon pomeriggio e benvenuti dalla redazione del Tgmed. Esattamente un mese fa il 2 maggio, i primi 10 operai ex Fiat tornavano nell'astabilimento di Termini, oggi della Blutec. Già si sapeva che il percorso non sarebbe stato tutto in discesa e oggi a dimostrarlo il fatto che la cassa integrazione per centinaia di operai non arriva ancora da mesi. Le proteste di questa mattina a Palermo le vediamo insieme a Marianna Grillo nel servizio. Sono un centinaio gli operai della Fiat di Termini merese che hanno manifestato davanti alla prefettura. Da due mesi ormai è scaduta la cassa integrazione ma il Ministero del Lavoro non ha ancora firmato il decreto, un passaggio indispensabile per sbloccare i soldi. Una circostanza che va in controtendenza invece con un segnale positivo come l'arrivo nella fabbrica di Termini merese dei primi 10 operai sotto il marchio Blutec. Quasi un mese fa, infatti parliamo del 2 maggio, riepriva la fabbrica in provincia di Palermo. A fronte di tutto questo i sindacati giudicano incomprensibile il mancato sblocco della cassa integrazione. I lavoratori sono senza cassa integrazione da più di due mesi, questo decreto non viene approvato da parte del Ministero del Lavoro e la cosa strana è che quando lo stabilimento era chiuso il decreto veniva firmato con molta facilità. Oggi che dentro lo stabilimento sono ritornati a lavorare 43 lavoratori e lunedì ne entrano altri 20 non si capisce le ragioni perché questo decreto non debba essere firmato. Noi stiamo chiedendo aiuto al prefetto di Palermo perché non riusciamo a capire il perché il Ministero del Lavoro ancora non firma il decreto di proseguo di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Blutec. Stante che Blutec sta rispettando gli impegni presi al Ministero, quindi sono già partite i primi progetti, quelli di programmazione, si è impegnata entro luglio a partire con il progetto di allestimenti e questo è un punto di forza a favore dell'azienda che sta investendo e sta rispettando gli impegni. Paradossalmente il conto lo stanno pagando solo i lavoratori perché è un'azienda che si sta insediando, che ha firmato un contratto di sviluppo, che riceve per mano del Presidente Crocetta una copia del decreto che gli fanno l'anticipazione di 20 milioni di euro, quindi abbiamo un'azienda che può fruire di fondi pubblici per definire la reindustrializzazione e quelli che soffrono sono i lavoratori perché non riescono ad avere un decreto per poter fruire della cassa integrazione. Due giovani sono morti annegati in provincia di Ragusa, ne parleremo dopo la pausa pubblicitaria. Eventi, classifiche, notizie www.radiomed.com Il nuovo sito Tutto pronto a Lampedusa per l'arrivo questo pomeriggio del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, una visita che arriva in un momento, se possibile, ancora più complicato per quanto riguarda l'accoglienza e i soccorsi in mare. Sentiamo Ambra Drago. Una visita nell'isola che è diventata il luogo simbolo dell'accoglienza, ma anche di tragedie legata a un fenomeno, quello del flusso migratorio, che non accenna ad arrestarsi. Lampedusa è pronta ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che inaugurerà il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo e il Museo Archeologico dell'Isola, accompagnato dai ministri Angelina Alfano e Dario Franceschini, nonché dall'arcivescovo di Agrigento e il cardinale Francesco Montenegre e dal sindaco di Lampedusa, Giussi Nicolini. Successivamente, il Presidente Mattarella deporrà una corona di fiori dinanzi alla struttura architettonica chiamata Porta d'Europa. Al di là di essa, si sono infranti negli anni la speranza di migliaia di migranti, arrivati dalla Libia, dall'Egitto, dalla Siria, senza poi dimenticare la tragedia in mare avvenuta l'altro ottobre del 2013, dove morirono 366 persone. Da lì sembrava che dovesse cambiare la politica europea in tema di migranti, invece, quotidianamente, in questo preciso momento, complice alla stagione estiva, si registra un elevato numero di sbarchi. Basti pensare che la scorsa settimana, in tre distinti naufragi nel canale di Sicilia, sono stati 12.000 migranti soccorsi alle navi e alla marina militare e una settantina le vittime. Gli sbarchi hanno messo in crisi soprattutto il sistema di identificazione, che per ora si fonda su quattro hotspot, Lampedusa, Trapani, Pozzalle e Taranto. Presto annunciato il Viminale, ci sarà l'apertura di due nuovi hotspot a Mineo e Messina, così i posti complessivi passeranno da 1.600 a 2.800. Diversi hotspot di secondo livello saranno poi aperti per i migranti da rimpatriare. L'Italia ha chiesto all'Europa di accelerare la relocation, finora sono poco più di 600 profughi trasferiti in altri paesi europei dallo scorso ottobre, mentre il piano Juncker prevedeva lo spostamento di 20.000 persone dall'Italia in due anni. Due giovani di origini canesi sono morti annegati nella serata di ieri in provincia di Ragusa, si tratta di un 28enne e di un 26enne che insieme ad altri connazionali erano nelle vicinanze di un invaso per pescare. Il 26enne però è scivolato all'interno e il connazionale ha cercato di aiutarlo, ma anche lui è stato trascinato in acqua. Poco dopo sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco sommozzatori di Palermo, ma per loro non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero dei cadaveri si sono concluse intorno alle 5 di questa mattina. Dopo l'incidente di ieri sale a 7 il bilancio dei morti sulle strade di Palermo nelle ultime settimane. Sentiamo. Sette vittime della strada in meno di un mese. Questo è il bilancio aggiornato delle ultime settimane dopo l'incidente di ieri che ha portato alla morte Camillo Perfetto, 45 anni, padre di tre figli. L'incidente in Viale Michelangelo, proprio nella stessa via dove c'è la chiesa San Giovanni, dove si svolgeranno i funerali di Michele Pizzuto, un'altra vittima della strada, 13enne, morto lunedì all'ospedale civico. Perfetto stava percorrendo Viale Michelangelo in direzione di Borgo Nuovo a bordo di un motore free. È bastato un attimo per perdere il controllo del motoveicolo, un attimo e lo scontro contro un albero, un attimo e l'intervento dei sanitari, un attimo e la constatazione del decesso. Attimi di una dinamica ancora tutta da accertare su cui stanno ancora indagando gli agenti dell'infortunistica stradale. Con il suo decesso si contano quindi sette vittime in meno di un mese, un insieme di attimi che fanno riflettere. La sezione antirapine della squadra mobile ha trovato tre panetti di cocaina nascosti sotto la scocca di una Nissan. L'auto arrivava a Catania da Messina con a bordo un pregiudicato di 43 anni. Si tratta di Giuseppe Ciappazza. La polizia lo ha fermato e la reazione dell'uomo lasciava intendere che aveva qualcosa da nascondere proprio all'interno della sua auto. Due controlli e poi il ritrovamento della droga quantificata in quasi 4 chili. Arriverà in serata a Marsala la salma del maresciallo Silvio Mirarchi, ferito a morte nelle campagne di Marsala mentre era impegnato in un appostamento insieme a un collega. Domani mattina i funerali. Sentiamo. La camera ardente nella chiesa dei Salesiani. Domani alle 11 i funerali è la chiesa madre di Marsala. Con una celebrazione solenne sarà dato l'ultimo saluto al maresciallo e carabinieri originario di Catanzaro Silvio Mirarchi e alla presenza anche del comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del 7. Le indagini continuano per risalire a chi abbia sparato procurando i feriti mortali nella notte tra martedì e mercoledì al carabiniera nelle campagne di Marsala durante un appostamento per un blitz antidroga. Le indagini hanno già dati i primi risultati. Sono state trovate due serre con 6.000 piante di marijuana, valore stimato 4 milioni di euro ed è stato arrestato un 54 anni di partinico Francesco D'Arrigo. L'indagato è finito in manette per coltivazione e detenzione di indroga. Le indagini mirano però ovviamente a fare chiarezza intorno a questo omicidio. L'ipotesi principale è che a sparare siano state delle persone a guardia delle coltivazioni di marijuana, come era accaduto un paio di settimane fa, quando due romeni erano stati colpiti da fucilate e da custodi di una piantagione di canapa indiana, segno di una criminalità che si fa pochi scrupili nel mantenere il controllo sulle coltivazioni di droga nel Trapanese. Siamo adesso allo spazio dell'ospite con l'avvocato Raffaele Bonsignore Nuovo, presidente della Fondazione Sicilia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi invitato, manifestando attenzione per la istituzione Fondazione Sicilia. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito e volevamo chiederle, per spiare tre spettatori che non conoscono la Fondazione. Di cosa si occupa? Qual è la missione della Fondazione Sicilia? La Fondazione è una fondazione di origine bancaria, è stata istituita all'epoca dal Banco Sicilia, tant'è vero che il nome prima era Fondazione Banco Sicilia. Oggi la Fondazione si occupa prevalentemente nel settore dell'arte e nei beni culturali, ma anche si occupa di educazione, istruzione, di interventi nella ricerca scientifica, tecnologica. Diciamo che ogni tre anni sono diversi settori su cui la Fondazione interviene ed opera nel territorio siciliano. Lei, come dicevamo, è il nuovo Presidente, raccoglie il testimone di Gianni Puglisi, che diventa Presidente Emerito. Questa Presidenza, questa sua Presidenza, quale direzione ha? Ci può tracciare delle linee future della Fondazione? Innanzitutto direi che la mia Presidenza, proprio per il testimone che raccolgo, sarà ispirata al principio della continuità. Vorrei spiegare anche perché continuità, perché in questi dieci anni in cui il Presidente, come ricordava lei, è stato il Professore Puglisi, la Fondazione ha innanzitutto acquisito due mobili di pregio, tendo a riferirmi a Palazzo Branciforte, ma anche a Villa Zito. Non li ha soltanto acquisiti al proprio patrimonio, ma si è occupato di restaurarli e, ad esempio, per Branciforte, come lei sa, è stato incaricato uno degli architetti di fama internazionale, Gaolenti, a Milano, di recente mancata, hanno intitolato la piazza. Noi abbiamo un ultimo intervento di Gaolenti. Dopo aver restaurato e quindi riaperto questi palazzi alla città, li ha anche arredati con le nostre collezioni, nel senso che dà la possibilità oggi a tutti i cittadini, non soltanto della città di Palermo, ma della Sicilia, e direi anche agli stranieri, di poter ammirare le collezioni della Fondazione. Questo esempio virtuoso, che è stato, a mio avviso, segnalato anche dal fatto che, quando abbiamo aperto Branciforte, le ricorderà, è stato presente all'inaugurazione Giorgio Napolitano, quindi un'alta carica istituzionale ha riconosciuto il valore di quello che la Fondazione Sicilia ha fatto. E lo stesso si è verificato in occasione dell'apertura di Villa Zito. All'inaugurazione è ancora una volta partecipato, ha preso parte all'inaugurazione il Presidente della Repubblica, Mattarella. E questa presenza è sicuramente l'esempio di un cammino virtuoso che finora ha posto in essere la Fondazione. Ecco perché la mia Presidenza, insieme all'aiuto del nuovo Consiglio d'Amministrazione, si orienta in una prospettiva di continuità con quello che è stato fatto. È chiaro che non possiamo limitarci soldi esclusivamente a salvaguardare quello che ha fatto, la Fondazione deve andare avanti nel suo cammino, nella rivalutazione ancora una volta del proprio patrimonio. In conclusione volevo chiederle una riflessione generale. Qua in Sicilia sentiamo parlare spesso, poi forse viene applicato ancora meno, ovvero il coinvolgimento dei privati nei beni culturali e nella gestione. Dalla sua prospettiva, cosa si può fare e quale direzione bisogna effettivamente intraprendere? Io credo, come diceva lei Pocanzi, il tema oggi è un tema importante, perché qualche giorno fa ho letto su Repubblica l'assessore comunale che faceva riferimento all'assenza di soldi negli enti territoriali per occuparsi della valorizzazione del patrimonio culturale della nostra Sicilia. Chiaramente l'assessore si riferiva al patrimonio della città di Palermo. E questa è una realtà, obiettivamente, che è sotto gli occhi di tutti. La regione non ha più soldi, gli enti territoriali non hanno possibilità di occuparsi per questi investimenti nel patrimonio. Io credo che il privato ha un dovere di intervenire e ricordo a tutti che la Fondazione Sicilia è un ente privato e credo che ancora una volta, come ente privato, in questi anni io credo che nessun ente pubblico nel giro di dieci anni, dal 2005 ad oggi, ha aperto due sedi e soprattutto ha consentito delle esposizioni museali e delle proprie opere. Allora io credo che questo esempio che ha posto in essere la Fondazione dovrebbe essere l'esempio per i privati. C'è la possibilità di intervenire per la salvaguardia del nostro patrimonio. Però una cosa è giusto che vada detta. Questi interventi dei privati debbono necessariamente essere collegati e messi in correlazione con una progettazione e comunque con un collegamento anche con gli enti pubblici. Nel senso che dovrebbe esserci una concertazione, un tavolo in cui pubblico e privato si decide attraverso un'idea progettuale di andare avanti in una direzione. Quello che è sbagliato è sicuramente delle iniziative autonome che non tengono conto delle necessità effettive del territorio e che non vengano tutte insieme condivise. Grazie Raffaele Bonsignore per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Continuiamo con il telegiornale. Parliamo di cronaca perché si è avvalso della facoltà di non rispondere il professore di religione 47 anni accusato di atti sessuali con minore. Davanti al GIP il docente che avrebbe avuto una relazione con una sua luna 14 anni si è detto provato e non in grado di sostenere un interrogatorio. La procura ha anche nominato una psicologa che adesso dovrà valutare le condizioni della studentessa. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Mondello, borgata marinara palermitana dove entra nel vivo la stagione balneare. Noi siamo andati in giro tra turisti e palermitani per raccogliere qualche parere e anche qualche disagio. Vediamo. A scaldare gli animi dei primi vacanzieri di Mondello non sono le temperature ancora miti di questo inizio di giugno. Il vero incubo per i palermitani e soprattutto per i turisti ha un solo nome e cognome, parcheggio e strisce blu. In vigore dal primo giugno e valida fino al 30 settembre l'ordinanza del comune di Palermo comincia già a causare qualche disagio. Quasi introvabili i ticket sul posto. Non essendoci infatti i distributori automatici le uniche soluzioni sono quelle di recarsi o al punto Amat o se si è fortunati di incontrare un paio di ausiliari del traffico con il rischio però di ritrovarsi una multa sul parabrezza. Tra le tante cose c'è anche il problema che non si trovano gli ausiliari del traffico e di conseguenza non si può parcheggiare. Quindi l'alternativa qual è? L'alternativa sarebbe un parcheggio a pagamento che però è a quanto pare tutto pieno. Siamo turisti, siamo qua così che infatti abbiamo chiesto proprio dove potevamo andare a comprare i biglietti per parcheggiare. Stiamo andando e mezz'ora che aspettavamo là ma non c'era nessuno. Sono i strisce blu, mettete i parcometri, no? Siamo andati a tribolare per trovare... L'abbiamo trovato sul parcheggio dovevamo comprare i grattini e non riuscivamo a trovare la persona che li vendeva. Strisce blu a parte Mondello almeno per il momento è un mini cantiere a cielo aperto. Diversi lavori per riqualificare la borgata marinara che dovrebbero proseguire per l'intera settimana e che stanno creando qualche rallentamento al traffico. E la spiaggia, presa d'assalto soprattutto da studenti in pausa estiva e da qualche turista, appare pulita ma non troppo. Insomma, come ogni anno, anche quest'anno Mondello si prepara ad entrare nel vivo della stagione estiva con qualche novità e i soliti problemi. Si chiama Roberto Lipari, è un comico, è palermitano e soprattutto è il vincitore di Eccezionale e veramente talent di La Sette che ha concluso la sua prima edizione. Ce lo fa a conoscere Valtiero Sanfilippo. Roberto Lipari! Già, Roberto Lipari. Senti l'accento, osservi la mimica e riconosci l'ironia del siciliano. Questa caratteristica di vedere e spiegare le cose degna del genio che c'è nell'isola. Comico, monologhista e adesso vincitore della prima edizione del Talent. Nazionale di La Sette, eccezionale, veramente. Condotto da Gabriele Cirilli e con Paolo Ruffini, Diego Abbatantuono e Selvaggia Lucarelli in giuria. Dopo essersi fatto strada in diversi gironi, nella finalissima Roberto Lipari ha battuto gli ultimi tre concorrenti rimasti in gara, conquistando un contratto di due anni in esclusiva con la Colorado Film da 100.000 euro. Bambino diceva, mamma, ma perché abbiamo castrato il cane? Dice, perché gli volevamo bene. Dice, ma perché abbiamo castrato il gatto? Perché gli volevamo bene. Poi una volta mia madre è entrata nella stanza e fa, lo sai che ti voglio bene, ma chi ti conosce? Round di tre minuti costruiti a regola d'arte. Sicilia, attualità, famiglia e polemiche sottili che soltanto i siciliani sanno dire e non dire. Basta la mimica e già si ride. Risultato incerto fino all'ultimo, ha detto Roberto. Vincere è stato emozionante, più del rigore di Fabio Grosso ai mondiali. E se per un siciliano l'ironia è tutto, beh, questo è il nostro mondiale. Complimenti, Roberto. Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il Giro di Sicilia Autostorica e poi ovviamente il calcio e il Palermo, ma non solo, tutto questo nel Tgmed Sport dopo la pausa pubblicitaria. Per i sistemi Apple, Android, Windows Phone, scarica l'app TRM Web, la nostra applicazione. La tua pubblicità su TRM 13, MAD 1, MAD 2, Radio MAD. Neanche a dirlo, ci sarà il tutto esaurito. Trapani si prepara alla finale di ritorno contro il Pescara in programma giovedì 9 giugno allo Stadio Provinciale. Già è tempo di dare il via alla caccia ai preziosi tagliandi per assistere dal vivo a quella che, senza alcun dubbio, rappresenta la gara più importante dei primi 111 anni di storia, tinte granata. Dal 3 al 6 giugno, gli abbonati avranno modo di esercitare il diritto di prelazione con la possibilità di acquistare anche un biglietto per un non abbonato. Dal 7 giugno avrà inizio la vendita libera. Nel frattempo, la squadra di Cosmi prepara il confronto dell'andata previsto per domenica alle 20.30 all'Adriatico. L'obiettivo primario è quello di recuperare le forze dopo i due confronti ravvicinati contro lo Spezia. Ci siamo guadagnati questa finale, credo, avendo giocato due partite difficili, però dove abbiamo portato a casa sia all'andata che al ritorno una vittoria, quindi credo che ce la siamo meritati ampiamente. Ora ci andiamo a giocare questa finale veramente che nessuno a gennaio si aspettava, quindi siamo non contenti. di più, di più. Abbiamo veramente giocato una partita intelligente perché non era facile. Loro venivano qui senza, tra virgolette, niente da perdere. Noi invece siamo stati bravi a ribattere le loro azioni offensive e a chiudere questa partita. Occhi puntati su Bruno Petkovic, assente nel match di ritorno con i Liguri. Si punta al recupero del Croato, vero asso nella manica nel girone di ritorno che ha cambiato volta la stagione di un Trapani che non ha alcuna intenzione di smettere di sognare. Per TG Medsport, Gianluca Rubino. Era il 19 marzo e il Palermo stava giocando l'anticipo del sabato pomeriggio ad Empoli. Erano le 19.35, mancavano 10 minuti alla fine della partita e sul risultato di 0-0 Novellino lo fece entrare in campo al posto di Quaisson. Date e orario sono ben impressi nella mente di Accursio Bentivegna perché si tratta dell'unica volta in cui ha tolto la tuta, ha lasciato il posto in panchina e si è messo a correre in campo. In sei mesi è davvero poco, niente. Il fantasista di Sciacca sognava di essere protagonista e invece è stato sedotto e abbandonato. Per lui un semestre inutile, buttato al vento e dire che l'avevano richiamato dal prestito al Como per dare brio e soluzioni nuove all'attacco rosa-nero. Ma il caos ha incenerito ambizioni e sogni. A giochi fatti viene da chiedersi perché inchiodare alla panchina o addirittura alla tribuna un giovane di grandi prospettive. Un giovane che ha bisogno di giocare, di mettersi alla prova, di fare esperienza. Sembrerebbe proprio un errore, uno dei tanti dell'ultima stagione. È consigliabile farne tesoro. Il Palermo deve decidere. Dimostri di credere in lui o lo mandi dove può giocare. Farlo invecchiare in panchina è una mossa sbagliata. Ti accorgi se i giocatori sono forti solo se vanno in campo. In panchina sono solo dei soprammobili. Magari belli da vedere, ma il più delle volte inutili. Per Tgmed Sport, Alessandro Amato. 180 equipaggi sfitti a questa 26esima edizione. Un'amministrazione internazionale di autostoriche. Credo dopo Mille Miglia e Campiamo Nuvolare, devo dire, siamo noi, l'amministrazione è più importante come numero, come partecipazione, come parco auto così notevole, macchine unici come la di alto, il Ferrari GT 250 testa rossa. Veramente modelli unici, forse rari. Ce ne sono 11 anteguerra, qualcuno l'ha già citato. Sì, ci sono delle anteguerra. C'è una di alto anteguerra, anche questa unica al mondo. C'è una Ford A del 1914. Un parco macchine anche notevole, come appunto diceva lei, del anteguerra. 26esima edizione che mai, come in questa occasione, lega i motori alla cultura. È stata definita l'edizione del museo itinerante. Abbiamo preso un'iniziativa come percorso arabo-normanno, percorso arabo-normanno dove toccheremo le cattedrali di Palermo, Morreale e Cefalù, fino ad arrivare al barocco, basso barocco, Ibro. Insomma, sarà un percorso socio-culturale, enocastronomico, per far conoscere ulteriormente, se ci fosse bisogno, una nostra bella Sicilia. E poi la conclusione a Cerda, non si poteva non concludere a Cerda. La conclusione a Cerda, nel piccolo circuito della Targa Forio, dove il vincitore, oltre ad avere diversi premi importanti, aveva uno particolare perché, novità in assoluta, il vincitore andrà a concorre gratuitamente alla Gran Carrera, un'avestazione in Argentina, ma avrà, abbiamo una cinquantina di partnership che saranno gadget a non finire. Devo dire, sono soddisfatto dopo un anno di lavori, duro lavori in tutte le fiere internazionali, perché noi siamo purtroppo, la Sicilia è bellissima, ma siamo lontani dal mondo. Quindi far venire equipaggi dall'America, dal nord Europa, abbiamo anche personaggi famosi del nord Africa, abbiamo l'esponente della FIA del nord Africa, Chiaccionora, abbiamo Renato Pozzetto come attore, dico, non manca nulla. 26esima edizione del Giro di Sicilia, mai come quest'anno legata anche alla cultura, non soltanto motori con addirittura ben 11 auto anteguerra, cioè costruite prima della Seconda Guerra Mondiale, mondiale, ma addirittura oltre 160 alla linea di partenza da Piazza Poiteama, si arriverà poi a Cerda, proprio nella patria della Targa Florio. Direte voi cosa ci facciamo dentro questa auto? Siamo entrati nell'auto del direttore del TG Med, Luigi Perollo, che sarà uno dei protagonisti di questa 26esima edizione. Luigi, le emozioni? No, le emozioni sono tante, in effetti essere uno dei protagonisti è eccessivo, perché sono certo che mi fermerò nelle parti basse della classifica. L'importante però è divertirsi, anche perché il Giro di quest'anno, il Giro di Sicilia, è strutturato rendendo omaggio ad alcuni dei luoghi più belli della nostra regione, a parte l'itinerario Arabo-Normanno, la Valere-Templi, il Barocco di Noto, le Madonie. Allora, con queste auto non si può correre, si può gareggiare con la regolarità, ci sono gli strumenti appositi, soprattutto bisogna godersela, ed è questo l'obiettivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.